Ok, il gallo canta, mentre il pavone si pavoneggia. Le paperine passano, mentre un cerbiatto come per magia spunta da un cespuglio. Di fronte a loro, felici e infangati, i bambini giocano nel gare a giochi. Poco più avanti c'è una zona attrezzata per il picnic. Un posto dove è davvero impossibile non immergersi nei rumori della natura. Questo è il Parco La Rocca, nel comune di Val Fenera, in provincia di Asti. Un piccolo paradiso immerso nella natura. Uno di quei luoghi che proprio non ci si immagina di avere dietro casa. Il posto adatto per una gita in giornata, per giocare e mangiare nelle gare attrezzata, e anche per immergersi e camminare nel bosco. Vi racconto tutto nell'articolo qui sotto. Visitate www.vita03.com e cercate l'articolo Gita al Parco La Rocca di Val Fenera. Vediamo alla prossima! Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti.